Ciao a tutti sono Bonf777, benvenuti in questo... oh sono proprio... oh sono... una furia sono, vedete che guardate la mia faccia a metà perché visto che va di moda in sti giorni fare video in cazzatura su diciamo le visualizzazioni e sta roba qui adesso lo faccio anch'io, sono arrabbiatissimo, guardate che capelli di merda ho, ma è possibile, cioè mi sto preparando da... non so quanto per registrare il fuck you time, ma ho dei capelli di merda, non riesco, io non lo registro, cioè guardate cosa fanno guarda cosa fanno, cioè ma non lo so che succede, adesso... allora adesso io metto qua, ferma, questa, la metto qua, ferma, se vuole essere ferma e vi faccio capire, guardate eh, guardate già adesso che merda sono, cioè io se anche io prendo il gel e me lo metto così mi... ma non lo so che succede, cioè sono diventati solidi, ma cosa succede, non mi mandate i messaggi adesso cioè sono diventati solidi, guardate, potrei farli benissimo così, guarda eh, guarda, boom cioè non ha senso, ho capelli merdosissimi, io basta non faccio più video, questo è l'ultimo video, ma che schifo cioè, guarda, boh, adesso me li sciacquo anche, guarda, me li lavo guarda, cioè sto diventando tipo una pastina guardati schifo, mi sa che non si sente niente guarda, oh, così me li lavo me li lavo e me li asciugo, me li asciugo con un asciugamento bagnatissimo all'inizio era asciutto e adesso è bagnatissimo perché sto continuando a lavarli e asciugarli lavarli e asciugarli, lavarli e asciugarli ah, oh, cioè è ancora peggio, è ancora peggio, guarda, cioè fiero, fiero, è ancora peggio, non so cosa sta succedendo cioè, cioè, non lo so, non lo so, non lo so, cioè io mi metto questo cappuccio piccolissimo e so così tutto il tempo mamma mia mamma mia, scusate se è un video così, però devo farvi vedere cosa passo io con i miei capelli merdosissimi ho dei capelli di merda e io qua carico tutto, carico tutto, non me ne frega, cioè perché mia mamma mi ha fatto nascere così i capelli di merda? ah, guarda, 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 guarda cosa fanno fan cose a caso, fan cose a caso non so, cioè aspetta, meglio asciugarli bene col phon no, lo so, lo so che questo video aspetta so, so che questo video prenderà tantissimi non mi piace perché ogni volta che faccio un video a caso prende almeno 20, 30 non mi piace quindi stavolta abbondate arriviamo a 50 dislike, però mettete anche mi piace, cioè ok, ora sono asciutti però, vediamo, io non mi fido di quel gel schifoso qua, cioè questa roba qui non so cosa sia la proviamo? vai, vai, vai ma che cos'è sta roba? no, è rotta ma scoppia tutto no, questa è rotta oh mio dio non nel lavandino e, e, dobbiamo affiderci del gel no, andiamo a vedere cos'altro abbiamo abbiamo questo non so si spruzza che cos'è? spray solleva radici boh qualcosa di giardinaggio tipo, boh non lo so vai, vai spruzza spruzza ma, siamo al punto di prima cioè, siamo al punto di prima proviamo a fare la combo con questo gel merdoso spagnano tra le mani oh, io non so cosa fare non so cosa fare mi ricordo quando ho i capelli bellissimi e adesso questa merda qui mi sa che li devo tagliare tipo, aiuto cioè, ma non così ma che cosa sto facendo beh, eh no 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 no, basta, basta mi arrendo cioè, sarò qui da tipo mezz'ora mi arrendo e finisco cioè, però mi faccio un taglio così per la fine del video quindi, scusate per questo video super a casissimo però devo farvi vedere la mia sofferenza nel farmi i capelli perché ho i capelli più brutti del mondo tipo, poi ci facciamo così facciamo il ciuffo eh, voi vi ho detto esagerate con i dislike no, comunque doveva arrivare il fuck you time però non ce la faccio a farlo intanto sto cercando di sistemare ancora ma niente non ce la faccio a farlo il fuck you time eh, perché ho deciso di di optare per un video di merda così sì bravo eh, però arriverà sempre oggi vi ricordo non so neanche l'ordine comunque non so se è già arrivato o arriverà dopo alle 6 eh, il un altro contest perché è quello dei mille seguaci su Instagram quindi pronti seguite pure quello qua boff indetemi fate quello che volete ditemi come sistemare questi capelli di merda e basta se il video ti è piaciuto metti mi piace iscriviti al mio canale e commenta da bomb 777 è tutto ciao a tutti